Diretta, torniamo con il nostro approfondimento di questa mattina, ciao Como, e allora adesso torniamo a parlare dell'emergenza sanitaria e ci siamo già occupati di varie realtà del nostro territorio, questa settimana dall'Erbese all'Olgiatese siamo andati in Alto Lago, oggi invece andiamo in quella che è la seconda città della nostra provincia, che è Cantù, quindi una delle realtà più importanti, e collegati con noi via Skype abbiamo sia il sindaco Alice Galbiati che saluto cordialmente, buongiorno e ben ritrovata Alice. Buongiorno Marco, grazie a voi, buona giornata a tutti. Un caro saluto a te caro sindaco e salutiamo anche il collega e amico Mario Camagni che è con noi questa mattina, ciao Mario, buona giornata. Buona giornata anche a te Marco, buongiorno Alice e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Molto bene, allora diciamo che ovviamente Cantù è una realtà come sempre molto importante del nostro territorio anche per numero di cittadini, per numero di abitanti, poi Mario lascio a te ovviamente il compito di approfondire alcuni aspetti, Alice inizierei proprio magari con l'aspetto più numerico purtroppo di questa emergenza, immagino che anche lì il numero di positivi, il numero di contagi è purtroppo alto, giusto sindaco? Sì, assolutamente sì, la situazione è da tenere veramente monitorata, noi cerchiamo di aggiornare e condividere i dati che ci vengono forniti da TS tutti i giorni sui nostri social e sul sito dell'amministrazione, questo perché ritengo che sia fondamentale la comunicazione per avere consapevolezza di quella che è la situazione. Il dato mi è appena stato girato, l'ho controllato anche io questa mattina sul portale e poi mi sono confrontata e consentito di ringraziare Laura Binda, che è una volontaria della protezione civile che mi sta aiutando tantissimo in questo lavoro di monitoraggio. Questa mattina ci siamo sentite, ci siamo confrontate e i dati, vi do questo aggiornamento in diretta, adesso penso che lo stiano anche aggiornando sulla pagina social, è di 922 positivi attualmente, di cui due di questi 222 sono nelle RSA del comune, 718 guariti, con un incremento rispetto alla giornata di ieri di 44, quindi abbiamo un totale di 848 guariti e dall'inizio della pandemia 76 deceduti, questo dato comprende anche il numero dei deceduti nell'RSA, quindi i canturini cittadini sono 45, sicuramente sono numeri importanti, è chiaro che questo è derivato anche dall'aumento del numero dei tamponi, adesso sappiamo che ne facciamo in numero decisamente maggiore rispetto a quello che è stato all'inizio della pandemia, però sono numeri di assoluta attenzione e dimostrano che ci siamo dentro, ci siamo dentro ancora, a pieno. Quello che mi spiace, ho chiesto da TS ma non è possibile avere il dato, mi spiace non poter sapere di questi 922 quanti sono ospedalizzati e quanti no, perché questo insomma sarebbe una valutazione importante da poter fare, però giustamente mi hanno risposto che il veloce cambiamento e modifica l'iter quotidiano di aggiornamento non consente di fornire questo dato in maniera puntuale, per cui a TS non ce lo fornisce. Bene Alice, inizierei col chiederti come prima cosa, come stanno i tuoi due assessori che hanno avuto problemi proprio per Covid, mi sembra che Matteo Ferrai sia già guarito, mentre Maurizio Cattaneo in via di guarigione. Sì, fortunatamente sì, stanno entrambi bene, noi li abbiamo sempre sentiti e seguiti in questo loro percorso di malattia, devo dire hanno sempre partecipato alle giunte che noi facciamo in videoconferenza fin dall'inizio, dalla ripresa di questa seconda ondata, per cui le loro condizioni non sono mai state così gravi da non poter partecipare ai lavori. Chiaro c'era preoccupazione per loro, però ci siamo sentiti quotidianamente e rassicurati, per cui ad oggi facendo tutti gli scongiuri diciamo che siamo una giunta in salute. Meno male, è di ieri la notizia che il Ministro Speranza ha confermato la Lombardia ancora zona rossa, direi decisione saggia. Sì, allora devo dire, alla luce dei dati io credo che quantomeno per la nostra zona, che è quella che attualmente è più colpita, sia una decisione saggia. Abbiamo visto tutti, anche i quotidiani hanno pubblicato nei giorni scorsi, come i dati in questa seconda ondata dimostrino che il Comasco, il Varesotto, la zona dell'Olgiatese, sia la zona particolarmente colpita in questa seconda ondata. Quindi è chiaro che l'attenzione deve rimanere alta e abbiamo visto che non sempre affidarsi totalmente alla responsabilità del cittadino porta poi lo secchio delle norme, per cui è necessario che comunque la stretta rimanga. Questo però con tutto quello che comporta e che consegue dal punto di vista economico per le nostre attività, perché questa è veramente una tematica grave. Già all'inizio, già nella prima ondata, avevamo il timore che nell'autunno avremmo avuto una forte crisi economica. Insomma, il protrarsi delle restrizioni non fa altro che confermare quello che sta accadendo e quello che poi si protrarrà nei prossimi mesi. La situazione all'ospedale di Cantù e nell'RSA, Canturini? Allora, nell'RSA mi sono fatta dare il dato. Anche qui abbiamo un aggiornamento settimanale. Stiamo monitorando con loro la situazione da inizio pandemia. E allora, come sapete, Cantù ha due RSA, due istituti, insomma. Abbiamo la fondazione Garibaldi Pogliani, che ha due edifici, due sedi nel Canturino, via Galimberti e via Fossano. E per entrambe le sedi abbiamo un solo ospite positivo. Per quanto riguarda invece la struttura di Valdi, in via Sparta, abbiamo come aggiornamento a ieri sei positivi, sei ospiti positivi, tutti asintomatici. E mi permetto di riportare un pochino il grido d'allarme lanciato dalla struttura, perché loro hanno segnalato la difficoltà nel trovare spazi, posti letto per queste persone, che pur essendo asintomatiche, chiaramente sono gestite da gestire all'interno della struttura e poi creano dei problemi, cioè dei rischi maggiori per gli altri ospiti. Però appunto mi rappresentavano l'impossibilità di trovare dei posti letto in strutture dedicate. E questo ci porta, diciamo, all'attenzione tutto il tema dei Covid hotel e di tutte quelle strutture che potrebbero andare, insomma, a sopperire a questa necessità. I commercianti e le attività chiuse stanno soffrendo tantissimo. Quali sono gli aiuti che metteranno in campo, si spera, la Regione e che ha già messo in campo anche il Comune di Tantù? Sì, allora, fin dall'origine noi abbiamo sempre detto che avremmo fatto tutto il possibile per stare a fianco dei nostri commercianti. Regione, abbiamo visto, questa settimana ha lanciato, sì, Lombardia, quindi tutta una serie di interventi economici importanti a sostegno delle categorie che sono state colpite dagli ultimi due di PCM. Lo stesso sta facendo il Comune di Tantù, con tutte le difficoltà del caso che poi magari se ci sarà occasione vi racconterò. Noi abbiamo avviato, grazie agli uffici che ci hanno sostenuto in questa volontà, avviato un procedimento per la formazione di un bando, quindi abbiamo individuato, in realtà, le risorse economiche da poter destinare a questi aiuti e abbiamo ipotizzato un bando dove andare a sostenere le categorie che erano state chiuse con il primo di PCM, quello di ottobre. Poi cosa è successo? Sappiamo tutti che nel giro di pochissimi giorni è arrivato un secondo di PCM, quello che ha inserito la Lombardia nella zona rossa e quindi ha aggiunto altre categorie alle chiusure. Questo ha comportato chiaramente da parte nostra la necessità di sospendere temporaneamente quello che stiamo facendo per implementarlo con queste nuove attività. Quindi adesso, grazie al lavoro, ripeto, degli uffici dell'assessore Molteni che è veramente sempre sul pezzo, stiamo finendo di costruire questo bando e spero la prossima settimana che possa uscire. È chiaro che quello che ho sempre cercato di spiegare alle nostre attività e ai commercianti è che gli aiuti comunali non possono andare a sostituire quelli che necessariamente devono essere gli aiuti dello Stato. Il Comune ha risorse limitate, noi siamo già molto preoccupati per quello che sarà il bilancio 2021 perché è chiaro che le risorse economiche dei comuni risentiranno altrettanto di questa situazione di crisi per quello che riguarda le minori entrate e le maggiori spese. Quindi è chiaro che anche noi per quello che possiamo stiamo cercando di fare il possibile. Consentimi però di aggiungere questa difficoltà che abbiamo perché credo che i cittadini debbano conoscere la reale situazione noi comuni ci siamo rivolti, sapete che io faccio parte del direttivo di Anci Lombardia ci siamo rivolti al presidente De Caro, quindi il sindaco di Bari affinché scrivesse una lettera ai ministri del nostro governo per rappresentare una situazione di criticità in cui si trovano i comuni che vogliono aiutare i loro commercianti. Perché cosa succede? Quando un comune prevede un aiuto a fondo perso sottostà tutta una disciplina legislativa che comporta un aggravio importante dal punto di vista burocratico ma anche un aggravio di spesa. Abbiamo un parere dell'Agenzia delle Entrate che sostanzialmente ci dice che i comuni sono soggetti alla ritenuta del 4% e sono soggetti per l'aiuto che dà a fondo perduto ai propri commercianti e sono soggetti a tutta una serie di adempimenti burocratici ai quali invece non è stato assoggettato il governo quando nel DL rilancio ha previsto altrettanto contributi a fondo perduto perché nel DL rilancio era prevista una deroga ad hoc per questo tipo di attività. Quindi quello che con Anci tramite il presidente De Caro abbiamo chiesto ai ministri è che insomma sia prevista anche per i comuni che con tanta difficoltà stanno cercando di aiutare lo Stato che ha dei tempi sui quali non vorrei soffermarmi nell'aiutare i commercianti, insomma cercare di aiutare anche i comuni a fare il proprio dovere nei limiti. Mario scusa un attimo prendo solo la linea dallo studio per salutare un po' anche tanti i nostri amici che stanno salutando anche a loro volta il sindaco Cantù, Nadia, Francesco, Barbara, Michela, Betti buongiorno Giuseppe anche buongiorno, Agnese che è Canturina e che ci segue sempre ciao Agnese buongiorno Aurora, Daniele saluti anche a loro ripeto siamo in diretta con il sindaco di Cantù, Alice Galbiati per parlare di questa emergenza c'è appunto anche Mario Camagni con noi abbiamo già sviscerato un po' di cose, giustamente il sindaco ha fatto notare questa criticità, ecco la chiamata così, criticità che in effetti rischia di essere un macigno importante in questo periodo per le amministrazioni che vogliono magari dare un aiuto ai tanti commercianti in difficoltà ti chiedo solo una cosa, poi lascio per la chiusura ancora Mario hai avuto sentore il sindaco magari di qualche attività chiusa com'è la situazione figlia di una crisi che si protrae ormai da tanti mesi lì da voi a Cantù? Parlo di attività commerciali ovviamente il sindaco sì 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 certo certo, allora io ho la percezione di una grandissima preoccupazione per quello che è e per quello che sarà le attività sono chiuse, ancora oggi purtroppo abbiamo delle attività che non hanno esattamente contezza di quello che possono o non possono fare sull'asporto, la consegna a domicilio, questo perché c'è ancora un po' di confusione su quelle che sono le regole, noi cerchiamo sempre di essere il più disponibili possibili nel dare le risposte, io personalmente il vice sindaco Giuseppe Molteni che appunto ha la delega alle attività economiche, il comando di polizia locale la parte nostra c'è la massima disponibilità nei confronti dei commercianti però è chiaro che ci sono, la preoccupazione è veramente dilagante adesso mi viene in mente che sono qui in comune, guardo il cortile qui di fronte e poco sotto ho gli ambulanti, abbiamo il mercato e chiaramente il mercato è di soli beni alimentari e all'inizio io mi sono trovata in difficoltà a dover spiegare agli ambulanti di particolari categorie merceologiche perché non potessero fare il mercato quando la stessa categoria merceologica in un negozio era aperta mi hanno scritto diversi banchi dell'intimo dicendomi ma perché io non posso fare il banco quando invece il negozio di intimo è aperto e questa purtroppo è una risposta che io non sono stata in grado di dare se non riferendomi a quanto ho scritto nel DPCM perché purtroppo questa è un'altra precisazione che tengo a fare i comuni, i sindaci, gli amministratori sono il primo approccio che i cittadini hanno delle istituzioni ma noi siamo gli ultimi, esattamente come loro a sapere quando escono i DPCM, cosa c'è scritto e come devono essere interpretati per cui la situazione di confusione non aiuta la preoccupazione economica DPCM che scade il 3 dicembre quante possibilità ci sono che qualche attività qualcosa si sblocchi e si possa riaprire parzialmente rispettando tutte le regole? Guarda, la speranza evidentemente c'è adesso fare previsioni visto come si sta muovendo il governo è veramente difficile dovrai avere la palla di cristallo è chiaro che la speranza di poter riprendere e consentire la riapertura di alcune attività è sicuramente condivisibile l'abbiamo tutti vorremmo tutti immaginare di tornare alla normalità è chiaro che però io non sono una virologa non mi lancerò in ipotesi e valutazioni di alcun tipo perché ne andiamo fin troppi in televisione, sui social e ovunque però è chiaro che fin tanto che la situazione dei contagi rimarrà a questo livello l'attenzione deve rimanere altissima sempre e comunque indipendentemente da quelle che saranno le misure del governo perché io ho sentito troppe persone compresi i miei assessori che si sono ammalati di Covid dicendo io ho seguito tutte le regole sono stato attento portavo la mascherina mi lavo le mani quindi questo cosa ci dice? non tanto che quelle misure sono inutili ma che evidentemente il virus sta circolando in una maniera talmente veloce e talmente subdola che l'attenzione non deve essere massima di più deve essere veramente ai massimi livelli e quindi questo ci porta a dire che dovremo comunque continuare ad avere la massima attenzione nei rapporti sociali intanto ci sono anche le luminarie pronte per accenderle speriamo? sì abbiamo comunque voluto dare un segnale le luminarie sono pronte abbiamo fatto la prova l'altra sera tant'è che io stessa che sono uscita erano già accese ho detto ma no ma scusate le abbiamo già accese invece era solo la prova è chiaro che un Natale che sarà diverso ha bisogno di segnali e un segnale di luce di luminosità di speranza credo che sia quello che serve cercare di guardare avanti consapevoli di tutto quello che è stato io utilizzo spesso adesso un termine che ho imparato ad usare correttamente in una recente in un recente evento di protezione civile io non rischio che solitamente veniva fatto nelle piazze quest'anno purtroppo è stato fatto online un po' come tante iniziative e ricordo adesso consentitemi questa piccola parente di sponsorizzazione il festival del legno che stiamo facendo comunque in piattaforma io non rischio è stata fatta anche quella via web in streaming e il termine che è stato utilizzato tantissimo è quello della resilienza quindi la capacità di attutire di assorbire quelle che sono le crisi le calamità e di utilizzare per rinnovarci quindi per guardare oltre questo è quello che dobbiamo cercare di fare non farci sopraffare dalla difficoltà ma cercare di farla propria assorbirla e da questo rivoluzionare un pochino innovarci rivoluzionare il nostro modo di fare di comportarci tenendo presente di quello che è stato ma guardando avanti bene Mario direi che perfetto possiamo anche chiudere hai fatto benissimo Mario a fare questa postilla delle luminarie perché in effetti come ha detto il sindaco c'è comunque una voglia di dare un segnale no ecco esattamente Alice questa è la volontà della vostra amministrazione con il non rischio con tutte le misure precauzionali del caso bene possiamo chiudere qui intanto salutando e ringraziando Mario Camagni che è stato con noi questa mattina Mario ci ritroviamo domani mattina per un po' il nostro tour in giro per la provincia saluto e ringrazio Alice come sempre della sua cortesia sindaco ti auguriamo buon lavoro dunque aspetta un attimo ci arrivano anche ci arriva un'ultima domanda di Maria che dice volgiate il gran gesto del sindaco tamponi veloci per comune volontari ah ecco sì Simone Moretti che ha fatto questo screening importante veloce sicuramente ecco sì sì anche il comune di Cantù adotterà collaborazione per i tamponi rapidi e dice la nostra amica Maria e ti saluta anche e vi saluta il nostro amico Claudio Casartelli che tu conosci bene presidente di Confesercenti ecco chiudiamo così sindaco chiedendo se appunto dopo Simone anche tu hai pensato questa cosa è chiaro che il tuo comune è un po' più grosso rispetto ad Olgiatecomasco Alice sì è chiaro che esattamente come è stata nella prima ondata prima mi chiedevano di consegnare a domicilio le mascherine e insomma 40.000 persone sono complicate da raggiungere anche se poi i nuclei familiari sono circa 17.000 però stiamo parlando comunque di numeri importanti però sì assolutamente è tutto al vaglio anche perché è chiaro che la difficoltà e i tempi lunghi nel fare i tamponi comportano poi problemi organizzativi immaginiamo se dovessimo avere dipendenti positivi che comporterebbero poi la chiusura degli uffici comunali insomma sarebbe veramente complicato quindi il monitoraggio dei dipendenti c'è valuteremo assolutamente l'iniziativa di Simone Moretti noi sindaci siamo sempre in contatto anche Simone appunto ci siamo sentiti in occasione del bando di Cantù per i commercianti lo scambio di informazioni di buone pratiche come vedete indipendentemente dal colore politico ai nostri livelli assolutamente c'è bene questo è un segno di grandissima intelligenza e rispetto eh sindaco da parte di tutti voi bravi perché in effetti vi trovate in prima fila in questo momento così difficile ed è giusto anche aiutarvi tra di voi cari sindaci Mario grazie saluti a te saluti ad Alice buon lavoro Alice grazie a presto ovviamente ciao sindaco buon lavoro a voi buon sabato e buon fine settimana grazie sindaco buongiorno ancora ciao Mario grazie